Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 9 marzo. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Letture del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Parola del Signore. Molto importante questo passaggio del discorso della montagna. Gesù precisa che la sua missione non è abolire Mosè, non è abolire la legge antica, ma dare pieno compimento alla legge antica. L'espressione non passerà un solo iota o un trattino della legge è interessante perché già indica una attualizzazione della parola di Gesù, perché lo iota è una lettera dell'alfabeto greco e probabilmente Gesù avrà detto un solo iod, perché lo iod è una lettera dell'alfabeto ebraico, la più piccola lettera dell'alfabeto ebraico. Quindi probabilmente il significato è chiarissimo. Non passerà neanche un puntino, neanche una virgola della legge senza che tutto sia avvenuto. Ora però il fatto che vi sia un'attualizzazione già nella stesura del testo evangelico ci può fare riflettere sul fatto che la legge vada attualizzata è che Gesù Cristo sia colui che ci dà la comprensione piena della legge. Sant'Ambrogio diceva Termine della legge è Cristo. Chi cammina in questa via non può errare. Se camminiamo nella via che è Cristo, e gli infatti disse io sono la via, la verità e la vita, giungeremo appunto a comprendere pienamente la verità della legge e a vivere nella... e giungeremo alla vita, vivendo bene, ma soprattutto giungeremo alla vita eterna. Ecco allora che dobbiamo studiare le scritture, comprenderle, metterle in pratica, con quella perfezione che ci permetterà di vivere nella carità. Sì, perché la carità è la pienezza della legge. Chi vive nel vero amore di Dio cammina nella verità. Preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per la pace e dedichiamo volentieri tempo alla meditazione delle divine scritture, perché solo così potremo nutrirci di Cristo. E ricordiamo quanto diceva San Girolamo L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Chi non conosce le scritture non conosce Cristo. Che il Signore ci aiuti a conoscerlo sempre di più meditando le sue sante parole e mettendole in pratica. Buona giornata! Sia lodato Gesù Cristo! Grazie a tutti!